Carissimi, sono Sor Carla, una sorella delle Sacre Famiglie di Verona, da 27 anni nelle Filippine e mi trovo nella periferia di Manila. La nostra scelta missionaria è stata quella di essere tra i poveri e per i poveri. È stata un'esperienza di fede e di profonda umanità. Concretamente molte volte abbiamo fatto esperienza della provvidenza del Signore, provvidenza e presenza che ci dice che Lui c'è e che non abbandona. Ci siamo sentite anche tanto accompagnate dalla Sua presenza e dal Suo sostegno, soprattutto quando ci troviamo nell'impotenza di dare una risposta ai nostri poveri e la fatica si fa sentire, la sofferenza si fa sentire e anche la tentazione di arrenderci, ma con la preghiera e il pensare che voi ci siete, che siete una speranza per noi, riusciamo a riprendere, a ricominciare il nostro cammino con entusiasmo. Anche oggi ci si presenta una situazione di emergenza, anche noi siamo colpiti da questo coronavirus che paralizza e anche mette tanta paura. Cosa hanno bisogno i nostri poveri? I nostri poveri hanno bisogno di generi alimentari ed è necessario per la prevenzione. Questo intervento richiede una continuità e per questo abbiamo bisogno della provvidenza, perché non sapremo quando finirà. Siamo molto preoccupate perché anche nel nostro villaggio, nella nostra zona si sono verificati quattordici casi, tre vicini a casa nostra e tre in un villaggio di poveri. Subito ce l'hanno comunicato e ci hanno chiesto di non lasciarli soli, di non lasciarli abbandonati. Questo non avverrà e abbiamo assicurato che la nostra vicinanza sarà sempre presente, saremo sempre presente, anche perché hanno questa paura perché il comitato dell'associazione dove vivono ha deciso di chiudere e quindi diventa difficile per loro ma anche per noi di poter accedere, di portare questi aiuti. Lo spazio di una casa, l'area di una casa è di 24 metri quadrati e molte volte troviamo due famiglie che ci abitano dentro, famiglie numerose, per cui anche rimanere in casa è impossibile, soprattutto per i bambini e quindi hanno tanta paura e il rischio del contagio è molto alto. Per questo ci chiedono anche quello che serve per la protezione. Non sempre troviamo le mascherine perché nel commercio si fa fatica anche qui trovarle, però un signore ci ha regalato della scoffa e saranno le nostre stesse mani, mamme, aiutarci a procurarle e a collaborare con noi per quanto riguarda questa necessità. Voglio finire questa mia comunicazione, questo mio dialogo con voi salutandovi col saluto dei nostri poveri quando andiamo nei loro villaggi. Loro ci dicono sempre ringrazio il Signore perché mi ha fatto incontrare te, il Signore ti benedica. Noi oggi, tutte noi sorelle vogliamo dirvi ringraziamo il Signore perché ci ha fatto incontrare voi, in questo momento di emergenza. Ringraziamo il Signore e chiediamo la sua vedevizione per voi e per le vostre famiglie. Benedire vuol dire apprezzare la bellezza della vita, vuol dire augurare pace, serenità, ma soprattutto è scoprire il bene che c'è attorno a noi. Vi ringraziamo, vi ringraziamo perché ci siete, vi ringraziamo perché ci siete cari. Sappiamo che la situazione economica italiana, come tutti gli altri paesi, è veramente in difficoltà, però l'oceano è fatto di piccole voci d'acqua, così la carità. È un oceano fatto di piccoli gesti di bontà e di generosità. Grazie e confidiamo tanto anche nel vostro aiuto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.